L'Italia è un paese ricchissimo di frutta, verdura, è una terra che dell'agricoltura ha fatto l'emblema, ma io come faccio a sapere se un prodotto è italiano oppure a sapere da dove viene in generale? Noi sui nostri prodotti abbiamo comunque e per forza tutte le provenienze. Ah sì, sono indicate in etichetta, origine Sardegna, addirittura Veneto, Italia, Italia. Certo, ogni articolo ha il suo, anche per capire, c'è verdura che viene in inverno, verdura che viene in primavera, in estate, per vivere dall'estero. Perché quello che viene dall'estero in genere è il fuoristagione. Certo, in questo periodo specialmente. Per esempio, qui praticamente c'è tutta Italia, ma quali sono i paesi? Ecco, vedo là uno Spagna, la Spagna è un'altra forte produttrice. È una bella concorrente. Una bella concorrente, ecco sì. Diciamo che comunque... Anche se a sapori siamo diversamente, siamo molto diversi. Ah sì? Eh beh, l'Italia... Nostro sole, nostro sole. Nostro sole, nostro sole. E tra l'altro il sapore è importante anche dal punto di vista nutritivo, perché è legato proprio alle sostanze nutritive che sono presenti nella frutta e nella verdura. A questo proposito, un'altra cosa che ho visto adesso guardando l'etichetta, ma cosa vuol dire categoria prima, così? Cioè ci sono diverse categorie? A seconda di quando uno va a comprare, diciamo, nel mercato ortofrutticolo si compra in base al calibro. Ah, ho capito. Le dimensioni. Pomodoro, bravo. Stesso pomodoro. Questo pomodoro. Sì? È il calibro 1. Vediamo. Questo è il calibro 1? Questo è il calibro 1. Perfetto. Poi c'è il calibro 2. Che è un po' più piccolino. E c'è quello poi ancora più piccolo. Questo è il top, diciamo. È il top, il meglio, insomma. Bene, quindi provenienza, categoria e poi vabbè, il gusto è quello che determina tutto. Tutto legato alla stagionalità. Forse sono queste le tre cose da tenere presente quando si acquista, oltre ad affidarsi all'esperienza di chi ne sa tanto come l'è, insomma. Eh, grazie. Grazie a voi, arrivederci.